Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura. La cronaca con l'operazione dei carabinieri a Torre del Greco, due persone sono finite in manette per spaccio. Ampio spazio poi all'emergenza sanitaria e polemica tra De Luca e Figliuolo sui vaccini. Il governatore della campagna punta a vaccinare i settori economici a prescindere dalle fasce d'età. Torre del Greco, l'ASCOM promuove una campagna vaccinale per gli esercenti locali. Torna la paura tra i banchi di scuola positiva, infatti una lunna della Don Bosco a Torre del Greco. In conclusione le immagini di una città deserta questa mattina, complice anche il freddo. Questo è molto altro. Guardiamo i servizi. I carabinieri della compagna di Torre del Greco hanno svolto un'azione che ha portato all'arresto un 44enne di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto vicino al clan Nascione Papale. Già sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. Dovrà scontare 5 anni e 7 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di rapina e distorsione commessi il 22 novembre 2018 ad Ercolano. Denunciato in stato di libertà, invece, un 35enne di Ercolano, anche egli ritenuto vicino al medesimo clan, per aver violato la misura della libertà vigilata a cui è sottoposto. È stato fermato in strada durante un controllo alla circolazione e trovato in compagnia di una persona con precedenti di polizia. Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, un 34enne del posto. Controllato è trovato in possesso di un panetto di hashish di 98 grammi. Nella sua abitazione, invece, i carabinieri hanno rinvenuto 4 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Al 34enne, giudicato con rito direttissimo, è stata applicata la pena, con il beneficio della sospensione, di un anno di reclusione e 3.000 euro di ammenda. Non sono mancati controlli per le normative vigenti atte a contrastare la diffusione del Covid-19. Registrate anche contravvenzioni al codice della strada, gran parte delle quali per mancanza di copertura assicurativa e guida senza casco. Polemica tra De Luca e Figliuolo sul piano vaccini. Hanno destato scalpore le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il governatore ha annunciato di non voler rispettare il piano vaccinale previsto dal governo e regolato per fasce d'età. De Luca ha specificato e, dopo aver completato le somministrazioni ad anziani e fragili, introdurrà prima le attività produttive per porre le basi alla riapertura e alla ripartenza economica. Non è mancata la risposta del commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo. La campagna di vaccinazione deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza aderoghi ai principi che lo regolano, facendo riferimento all'ordinanza che indica le categorie prioritarie. L'obiettivo, aggiunge il commissario, è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all'infezione. Più celermente si concluderà questa fase prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive. Alla luce di queste direttive, il governatore Campano ha chiarito che la campagna di vaccinazione segue la priorità indicate per gli ultraottantenni e le categorie fragili. La categoria degli ultraottantenni in piattaforma sarà completata al 100% entro questa settimana e per i non deambulanti entro le due settimane successive. Le AS le impegneranno task force specifiche per le categorie fragili. Tuttavia il Presidente ha specificato che il dato reale che va segnalato è la drammatica carenza dei vaccini Pfizer e Moderna, che rappresenta un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo. Altro dato della realtà concreta, al di là degli schemi nazionali, è l'accumulo di AstraZeneca non utilizzato per varie indisponibilità. È per questo vaccino, chiarisce De Luca, che si procederà a una utilizzazione anche per categorie economiche. Anche sulle isole ogni centro vaccinale procede per fasce d'età, ma una volta completati gli ultraottantenni, gli ultrasettantenni e sessantenni, il centro vaccinale territoriale può procedere verso tutte le categorie contribuendo alla diffusione capillare delle vaccinazioni. Inoltre, De Luca ricorda che ci sono categorie non coperte dai criteri delle fasce d'età. Trasporti pubblici, personale alle poste e agli enti locali che lavorano agli sportelli di uffici pubblici, personale commesse da aziende commerciali aperte al pubblico, dipendenti del comparto turistico per cui i tempi sono decisivi. Tutte realtà che hanno bisogno di risposte celeri. Siamo qui col presidente Ascom, editore del Greco, che questa mattina, a mezzo di comunicato stampa, ha chiesto un'iniziativa maggiore per quanto riguarda la vaccinazione delle imprese locali. Può parlarci meglio di questa proposta? Noi come associazione abbiamo messo in campo tutti i mezzi, dall'informazione alla tutela e alla collaborazione con altre nostre istituzioni per fare in modo di informare quanto più è possibile. Anzi, addirittura abbiamo messo in campo anche attività assieme all'amministrazione comunale per supportare per quanto è possibile le aziende. Adesso per un ulteriore sforzo ci è venuto dalla collaborazione, dal nuovo protocollo che si è sviluppato fra il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro con le nostre associazioni datoriali e abbiamo sfruttato, anzi abbiamo preso il provvedimento e lo stiamo facendo nostro per quanto è possibile organizzarlo sul territorio. Di che cosa si tratta? Si tratta di cercare di vaccinare quanto più è possibile i negozianti che sono in prima linea contro l'infezione, cercando di facilitare il vaccino. È una possibilità che il Ministero ci ha dato e per quanto è possibile noi cerchiamo di utilizzarlo. Un'iniziativa che comunque arriva nel momento in cui anche il Presidente De Luca ha parlato della necessità di vaccinare le attività economiche, proprio ieri? Sì, certamente. De Luca risponde chiaramente al grido di dolore di tante aziende che in effetti cercano di ripartire, chiedono di ripartire e gli è chiaramente impedite dalle disposizioni del Ministero. De Luca è entrato in conflitto col Governo chiedendo di vaccinare per l'appunto perlomeno il personale e gli utenti nelle piccole isole per cercare di risolvere almeno il problema del turismo delle piccole isole per quanto riguarda la prossima stagione turistica. Come si procederà in termini pratici per questa campagna di vaccinazione per le imprese economiche? L'accordo nazionale, qui citava il Presidente, fa riferimento alle attività produttive del territorio e ovviamente anche ai dipendenti. Quindi significa vaccinare senza rispettare quelli che sono gli ordini di età, quindi di anziana età, ma praticamente è aperta a tutte le aziende che hanno dipendenti e vogliono far vaccinarsi prima di quelle che sarebbe l'ordine nazionale. Noi abbiamo creato quest'hub qui alla Stecca, quindi ci saranno delle sale d'attesa, la sala di registrazione e poi la sala medica dove verranno fatti i vaccini. Ovviamente stiamo chiedendo collaborazione dei medici sul territorio, nonché della Croce russa italiana. Siccome chiaramente ci sono i costi da sostenere, dobbiamo capire bene che anticipare questo vaccino non significa poi aggravare di costi le imprese. L'ASL ci ha dato già l'ok informale, quindi dovremmo fare una richiesta ufficiale con quelle che sono le procedure sia gestionali che sanitarie. Quindi sarà fatto tutto nel rispetto della legge dell'accordo nazionale. Da esercente e anche da rappresentante delle problematiche degli esercenti del posto, quanto è importante ripartire e ripartire in sicurezza? Secondo me è importantissimo, perché ci siamo subito preparati per questa iniziativa, perché chiaramente sia per i datori di lavoro che per i dipendenti, nonché dei clienti, è parlare con le attività produttive a cui mi rivolgo, che so che sono vaccinati e che non mi possono trasmettere nulla, sicuramente è importante, sia per la salute dei dipendenti che per quello riguarda quelli dei clienti. Quindi una volta vaccinati potrà riprendersi l'economia anche in vista della stagione estiva? Questo purtroppo non dipende da noi, dipende dal governo. Però già essere coperti da vaccinazione sicuramente diventa un aspetto sicuramente anche da un punto di vista di comunicazione migliore verso la clientela, perché normalmente si rivolgono ai commercianti e alle attività produttive. Gli esercenti hanno dimostrato una disponibilità al vaccino? Noi siamo partiti praticamente ieri con il comunicato stampa, adesso organizzeremo, appena abbiamo anche la possibilità di capire i costi reali, di invitare tutte le attività produttive a prenotarsi per poter fare il vaccino e chiaramente informandoli anche dei costi vivi delle spese che andremo a sostenere. Torna la paura per le scuole, alunna positiva a Torre del Greco. È trascorsa una settimana esatta dal ritorno alla didattica in presenza, disposta dal governo nazionale per le scuole primarie e le prime classi delle medie. Anche gli alunni della campania sono tornati tra i banchi dopo la lunga chiusura, nonostante la zona rossa. Dopo pochi giorni però a Torre del Greco è già preoccupazione per il nuovo rientro. Con una nota, l'Asla Napoli 3 Sud ha comunicato ieri la positività di un'alunna della classe prima B della scuola primaria Don Bosco. La bambina era stata sottoposta a tampone nei giorni precedenti. È stato quindi disposto l'isolamento domiciliare per tutti i compagni di classe e per i docenti che hanno avuto contatti stretti con l'alunna. I bambini potranno essere riammessi a scuola, salvo diversa successiva comunicazione, trascorso un periodo di quarantena ai 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, quindi fino al 23 aprile, previo esito negativo di un tampone effettuato. È naturale quindi che la preoccupazione ritorni ai mesi scorsi, quando i contagi iniziarono a diffondersi a catena con interi plessi scolastici costretti a chiudere per settimane, una situazione ingestibile che continuò fino alla drastica scelta di chiudere le scuole. Campania che potrebbe prepararsi a trascorrere, secondo le ultime dichiarazioni del governatore De Luca, gli ultimi giorni in zona rossa, così anche a Torre del Greco, che è ormai da più di 30 giorni relegata al regime più restrittivo delle fasce per il contenimento della pandemia da Covid-19. Le giornate miti e primaverili delle scorse settimane avevano senz'altro favorito l'incremento delle persone in strada che si accalcavano all'esterno di bar e nelle piazze del centro cittadino. Controlli che, seppur presenti, erano pochi e disseminati non in maniera equa sul territorio, lasciando numerose zone franche. Una zona rossa che non poteva far altro che tramutarsi in un mero pensiero del tutto astratto. In città il dato dei contagi sembra essere contenuto e non preoccupante. Da ormai qualche settimana il numero dei positivi ammonta 598-525 dei quali in isolamento domiciliare. Stamane Torre del Greco appariva pressoché deserta con le strade principali del centro cittadino e contavano poche decine di pedoni. Causa di tutto ciò, forse, non un improvviso risveglio delle coscienze dei torresi ma bensì le condizioni meteorologiche avverse, dando così, forse involontariamente, dimostrazione di una zona rossa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.